Cari amiche, cari amici, sono Adriano Aprà dell'Associazione Culturale Fuori Norma. Ci troviamo non in un cinema, sono seduto su una sede di cinema, ma nella sede della nostra associazione, forse avete sentito parlare di fuori norma. Da ottobre a dicembre del 2017 abbiamo presentato 20 film in 20 sale indipendenti romane, con un passaggio per ogni film di sei volte. Non è cosa da poco, non succede tutti i giorni, specialmente per dei film che vogliono identificarsi come fuori norma. Che vuol dire? Vuol dire che non seguono le regole istituzionali, che non somigliano al cinema italiano che casomai siete abituati a vedere nelle sale commerciali. Vi racconto come è nato questo progetto. Sono film che inventano, sono film che hanno il coraggio di uscire dagli schemi tradizionali. Sono i film che noi riteniamo essere i più interessanti, i più stimolanti, i più intelligenti, i più sensibili del nostro cinema recente. Abbiamo fatto fuori norma 1, abbiamo pubblicato un catalogo, come vedete tutto in rosso, siamo dei rossi. Adesso ci prepariamo a fare fuori norma 2, seconda edizione. Dai 20 film italiani di lungometraggio, qualcuno di medio metraggio siamo arrivati ad altri 53 film. Vuol dire che è qualcosa che non riguarda più soltanto i singoli, ma riguarda un, noi lo chiamiamo, movimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso ci accingiamo a questo nuovo sforzo, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, del vostro contributo. Se credete in quello che stiamo facendo come noi ci crediamo, bene, vi chiediamo quello che voi potete dare come contributo alla nostra associazione. Non abbiamo sponsor, non abbiamo contributi ufficiali, almeno per il momento. Investiamo il nostro lavoro. Il nostro lavoro vuol dire anche la nostra passione, la nostra determinazione, il nostro entusiasmo che speriamo di trasmettere a voi come pubblico. Un altro cinema italiano non solo è possibile, ma esiste. Grazie.